Mi chiamo, Showa Tatiana. Il 17 febbraio 2022 avevo pubblicato un video dove ho raccontato di essere stata vittima di traffico di organi per due volte in due ospedali italiani. La prima volta nel 2019 all'ospedale di Cona a Ferrara e la seconda volta nel 2020 all'ospedale Borgo Trento di Verona. Oggi vi voglio raccontare più dettagliatamente del mio primo intervento avuto all'ospedale di Cona a Ferrara, in seguito al quale mi hanno rilasciato una cartella clinica falsa, contraffatta, ecc. Nel 2019 mi rivolgo privatamente al chirurgo estetico dottoressa Ellaria Pezzini e faccio la visita presso il suo ambulatorio privato situato a Ferrara. Ho chiesto a questa dottoressa di aumentarmi il seno con protesi a scopo estetico. La dottoressa accettò di operarmi. Questo intervento l'ho pagato 8.400 euro. La dottoressa Ellaria Pezzini, prima di sottopormi all'intervento concordato, ha visto che io sono a Tatiana, ero una bella ragazza, giovane, di 27 anni, straniera, senza malattie, che pratica sport, non fuma, non beve, non ha mai partorito e non ha mai assunto pillole anticoncenzionali. La dottoressa Pezzini ha visto davanti a sé una giovane ragazza alla quale li può praticare interventi illegali, asportandoli partesani e organi dal suo corpo per venderli e fare soldi, ed era sicura di farla franca. Il giorno 5 dicembre 2019, dottoressa Pezzini mi opera in libera professione all'ospedale di Cona, Ferrara, e mentre io sono a Tatiana, ero sotto anestesia generale, mi asporta inegalmente parti sane del mio corpo, cioè il tessuto mammario, organi, muscoli, cartellagini, midollo osseo, gametti, ovociti, eccetera, e mi usa anche per scopi scientifici. La dottoressa Ellara Pezzini si è arricchita le sue tasche vendendo tutto quello che mi ha asportato illegalmente, compreso i miei ovociti gametti che ha venduto a qualcun altro per procreare i miei figli. Pensate che questi interventi illegali mi sono stati fatti dal direttore dottoressa Ellara Pezzini dell'unità di chirurgia plastica dell'ospedale di Cona, la quale ha premeditato e organizzato questo traffico di organi. Dottoressa Pezzini, prima dell'intervento, non mi ha affatto fare nessuna cura antibiotica, profilassi preoperatorie, la quale era d'obbligo, perché voleva estrarre il mio dollo e altre cose, però questo motivo non dovevano esserci antibiotici o farmaci presenti all'interno del mio corpo. Il giorno 7-12-2019, la dottoressa Pezzini mi dimette dall'ospedale con una gravissima infezione interna, dovuta agli interventi legali di quali io non ne sapevo nulla. Dal primo giorno dopo la dimissione, mi fa assumere per vari mesi tantissimi cicli di antibiotici, ABBA, DALACIN, CIPROXIN, eccetera, che erano mirati a curare l'infezione alle ossa, alle articolazioni, all'orecchio, ai segni paranasali, delle vie urinarie, degli organi genitali, ginecologiche, infezioni respiratorie, eccetera. La dottoressa Pezzini non voleva far risultare tutti questi antibiotici a carico suo e mi ordina di andare dal mio medico di base per farmi riprescrivere. In questo modo nascondeva che ho l'infezione interna e nei suoi rifiuti evitava di scrivere che prendevo questi antibiotici. Dopo l'intervento avuto all'ospedale di Cona, ho richiesto e preso la mia cartella clinica, la quale noto che è contrafatta. All'interno noto che a carico mio hanno fatto risultare due cartelle cliniche per lo stesso intervento e ricovero. Nella prima cartella clinica viene dichiarato che il mio intervento è stato eseguito in libera professione e quindi è stato pagato da me. E nella seconda cartella clinica viene dichiarato che l'intervento avuto non è stato pagato da me, ma dallo Stato. Ho pagato 8.400 euro alla dottoressa Pezzini per questo intervento e per le protesi. La dottoressa Pezzini ha pensato di intascarsi i miei soldi e far pagare il mio intervento allo Stato. Per questo motivo ho creato una seconda cartella dove dichiaravo che sono stata operata gratuitamente a carico del servizio sanitario, dichiarando una falsa malattia che non avevo. Queste due cartelle le hanno unite assieme per far sembrare un'unica cartella, in quanto non possono esistere due cartelle diverse per lo stesso ricovero e l'intervento. La prima cartella in libera professione è composta da solo una pagina. Ho fatto vari reclami e richiesti all'ospedale di Cona per ricevere questa cartella clinica completa, ma più di quella pagina non mi vogliono consegnare nulla, perché all'interno di questa cartella dovrebbero risultare i pagamenti del mio intervento, scontrini e codici delle protesi impiantati, ecc. E l'altro motivo perché non mi vogliono dare questa cartella è perché forse all'interno risultano falsi consensi di donazioni o false malattie dichiarate al mio carico per potermi asportare i miei organi sani, ecc. Invece la seconda cartella che mi hanno consegnato non dovrebbe nemmeno esistere ed è composta da 62 pagine contenente false dichiarazioni, falsi consensi per interventi legali, mancano timbri e firme della dottoressa Pezzini in varie pagine, ecc. Gli anche qui nascondono e non dichiarano i codici e i passaporti delle protesi che mi hanno impiantato perché mi hanno dato falsa documentazione per un altro tipo di protesi. Nonostante i miei numerosi reclami, la dottoressa Pezzini si rifiuta di darmi la giusta documentazione e lo scontrino per le protesi che doveva impiantarmi come d'accordi. Tre mesi fa ho sporto denunce alla Guardia di Finanza di Ferrara per i motivi descritti prima. Ancora oggi non ho ricevuto nessuna risposta. Spero di avere risposte in merito al perché il mio intervento è stato pagato due volte e che mi forniranno la documentazione giusta per l'intervento e le protesi che ho pagato. Vi voglio raccontare dei falsi consensi e del prospetto informativo presente nella mia cartella clinica. Vi chiedo di prestare attenzione e di andare a controllare le vostre cartelle cliniche perché magari anche voi, come me, siete stati l'ultimo di interventi illegali. Durante le visite preoperatorie private avute con la dottoressa Pezzini mi consegna e mi fa firmare un prospetto informativo composto da sette pagine dove vi viene spiegato l'intervento e alcune complicazioni postoperatorie che raramente potrebbero verificarsi. In questo prospetto non si parla di rischio di morire o di malattie che possono insorgere dopo l'intervento. Ho scoperto che la dottoressa Pezzini mi ha consegnato un prospetto informativo incompleto nascondendomi l'esistenza di un'ottava pagina nella quale veniva dichiarato che c'era il rischio di ammalarsi del linfoma anaplastico a cellule giganti che è un tumore del sistema linfatico il quale viene provocato da alcuni tipi di protesi. Se la dottoressa Pezzini mi avesse consegnato l'ottava pagina non mi sarei mai operata sapendo che c'è il rischio di acquisire malattie gravi. Per questo motivo la dottoressa Pezzini non ha dichiarato nella cartella clinica che tipo di protesi mi ha impiantato. Ho scoperto che per convalidare questo prospetto informativo la dottoressa Pezzini mi doveva consegnare un altro foglio dove dichiarava che mi ha consegnato questo prospetto e che mi ha spiegato e informato in merito ai rischi dell'intervento, ecc. Questo foglio doveva essere fermato da lei e da me altrimenti il prospetto che mi aveva consegnato non era valido e non mi poteva operare e nemmeno organizzare un intervento. Sette giorni prima dell'intervento mi presento all'ospedale di Cona per eseguire gli esami preoperatori col segno il mio codice fiscale ma quando lo inseriscono salto fuori un'altra sciova tatiana con altri dati anagrafici che non sono i miei. Più di un'ora non riuscivano a trovarmi e quindi hanno chiamato telefonicamente la dottoressa Pezzini la quale ha risolto il problema. Tre giorni prima dell'intervento la dottoressa Pezzini mi organizza la visita preoperatoria con l'anestesista che presta servizio all'ospedale di Cona. Durante la visita l'anestesista compila il mio consenso per l'anestesia e mi lo fa fermare. Dalla cartella clinica noto che l'anestesista non ha scritto e ha evitato di dichiarare nel consenso a quale intervento sarà sottoposta e quando. Noto anche che ha evitato di scrivere dove sono nata. In questo consenso non viene dichiarato il mio codice fiscale che serviva a confermare che questo consenso appartiene a me e non ad un'altra sciova tatiana. L'anestesista non ha dichiarato, non ha scritto volutamente il tipo di intervento che mi sarà effettuato per poter scrivere successivamente in questo consenso gli interventi illegali che mi avrebbe fatto la dottoressa Pezzini. In questo consenso l'anestesista poteva fotocopiarlo più volte e su ciascuna copia poteva dichiarare diversi tipi di interventi i quali potevano essere effettuati in qualunque momento durante la mia permanenza nell'ospedale. Così facendo, l'anestesista si è anche assicurata di poter somministrare senza problemi qualsiasi dose di anestesia in base all'intervento illegale che avrebbero dichiarato. Il giorno dell'intervento, poco prima di entrare in sala operatoria, la dottoressa Pezzini con inganno mi ha fatto fermare un foglio con la scusa di potermi scattare le foto preoperatorie. Nella cartella clinica ho notato che sono presenti due pagine che riguardano due consensi per diversi interventi che non mi riguardano. Nella prima pagina è presente l'inizio di un consenso dove viene dichiarato che sarà effettuato un intervento di ricostruzione al seno a una sciova tatiana nata vent'anni prima di me, la quale abita da un'altra parte. E anche qui non viene dichiarato il codice fiscale della persona e manca la data e la firma del paziente del chirurgo. Nella seconda pagina è presente la parte finale di un altro tipo di consenso per altri interventi, dove non viene dichiarato il nome e i dati anagrafici della persona che sarà operata. Non viene dichiarato il nome del dottore il quale farà questo intervento e nemmeno quando. Leggo che in questo consenso finale viene dichiarato che saranno trasferiti gli embi, gli inesti, ecc. con il rischio del decesso del paziente. Con il termine eccetera intendono che non c'è un limite a quello che possono togliere o trasferire e non specificano in che quantità. Inoltre, il termine eccetera può comprendere tutto, anche organi vitali, midollo, muscoli, cartellaci, tendini, ovociti, gameti e tutto ciò che si trova in un corpo umano. Inoltre, in questo consenso finale, viene dichiarato che saranno praticati interventi alla testa con il rischio di avere danni permanenti ai nervi, agli organi sensitivi, cioè danni alla vista, all'udito, all'ufatto, al gusto e danni al tatto, pelle e perdita dei capelli quando le incisioni sono effettuate sul coio capelluto e altre complicanze. Non capisco cosa ci fanno questi due consenzi prefabbricati dalla dottoressa Pezzini nella mia cartella clinica. Cosa c'entrano col mio intervento estetico di bellezza al seno? La dottoressa Pezzini ha usato questi due consenzi che non mi appartengono per farmi interventi legali in tutto il corpo, compreso la testa, per farsi una bella scorta dei miei organi e pezzi del mio corpo sani e mi ha rubato anche i miei fili per vendere anche quelli. Il direttore dell'unità della chirurgia plastica dell'ospedale di Corna, cioè la dottoressa Pezzini, mi opera illegalmente senza un consenso. Oggi non elencherò tutte le cose che non vanno nella cartella clinica perché ho poco tempo a disposizione, ma provvederò a pubblicare dei video più dettagliati con le cartelle cliniche contraffatte dove mancano timbre e firme in modo che anche voi possiate sapere e controllare le vostre cartelle cliniche. Pubblicherò dei video e vi spiegherò come stare attenti a non essere truffati e a non diventare vittime di interventi legali, come accumulare prove e come proteggerli, ecc. Ho denunciato la dottoressa Elaria Pezzini in questura di Ferrara e ho allegato tantissime prove, documentazione sanitaria, cartella clinica contraffatta, referti che confermavano un'infezione interna da Staphylococco aureus epidermis resistente, ecc. Nella denuncia avevo dichiarato di avere un'infezione interna da Staphylococco aureus epidermis presente da più di un anno, documentata e confermata da tre tampone dall'infettivologo e dal chirurgo plastico. Il Pubblico Ministero della Procura di Ferrara ha ignorato la conferma di questa infezione per proteggere gli ospedali e i dottori coinvolti ed ha aperto un procedimento con accertamenti non più ripetibili, cioè non più valutabili, come se fosse morta. Nel mio caso dovevo predisporre certamente ripetibili in quanto avevo una grave infezione interna che persiste tuttora. Questa infezione mi provoca gravi danni di saluti e peggioro sempre di più. Questo Pubblico Ministero ha nominato dei consulenti tecnici della Procura di Ferrara per studiare e valutare la documentazione e le mie prove. Dopo aver studiato le mie prove, i consulenti tecnici hanno scritto una relazione dove hanno dichiarato il falso per proteggere la dottoressa Pezzini e l'ospedale di Cona. Hanno nascosto le cure antibiotiche che ho preso. Hanno nascosto che avevo infezione interna resistente. Hanno nascosto che ho subito interventi legali dove mi hanno sportato organi, ecc. presso l'ospedale di Cona di Ferrara. Hanno nascosto che le cartelle cliniche dell'ospedale di Cona e di Verona sono contraffatte e in quals sensi all'interno sono falsi, ecc. I consulenti hanno evitato di dichiarare se a carico mio risultano consensi di donazioni di organi, ovociti, gametti, middolo ed altre cose. Il pubblico ministero della procura di Ferrara, con questa relazione falsa, ha chiesto l'archiviazione del mio caso. Io, Shoa Tatiana, ho fatto depositare dal mio avvocato due memorie difensive dove scrivevo e dimostravo che i consulenti tecnici hanno dichiarato il falso. Ho scritto anche di essere stata vittima di interventi legali e traffico di organi in due ospedali appena citati. In queste memorie ho aggiunto prove, documenti, referti, immagini e diagnostiche che documentavano gli interventi legali che ho subito. Ho chiesto al pubblico ministero di rifare la consulenza tecnica relazione in quanto hanno dichiarato il falso. Ho chiesto anche di fare ulteriori accertamenti e di effettuare la perizia di tali chirurgici dovuti agli interventi legali presenti sul mio corpo. Ho chiesto un radiologo per analizzare le mie immagini diagnostiche e per confermare gli interventi legali che ho subito, ecc. Il pubblico ministero non ha accolto nessuna delle mie richieste perché voleva archiviare il mio caso per proteggere i consulenti tecnici della procura di Ferrara, i quali hanno dichiarato il falso, per proteggere la dottoressa Pezzini e gli ospedali e i dottori coinvolti. A fine ottobre 2021, io e la Tatiana ho denunciato in costura di Ferrara la falsa consulenza tecnica. Io ho asporto un'altra denuncia contro la dottoressa Pezzini per gli interventi legali e le asportazioni di organi che ho subito. Dopodiché, il giorno 14 2021, volevo sporgere denuncia corela presso la questura di Ferrara contro il pubblico ministero della procura di Ferrara, il quale è incaricato per il mio caso perché protegge i dottori e gli ospedali coinvolti in traffico di organi. Il questura di Ferrara, appena non saputo chi volevo denunciare e il motivo, si sono rifiutati di prendere la mia denuncia perché si trattava di un loro collega. Il commissario di questura mi dice che questa era casa sua e ordina alle ufficiali in divisa di buttarmi fuori con la forza per impedirmi di sporgere la denuncia. Vengo aggredita da più di sei persone contemporaneamente, compreso il commissario stesso. Dopo diversi minuti di aggressione, il commissario mi amagnetta con le mani dietro la schiena, come se fosse una criminale. E poi, improvvisamente, decidono che sono in arresto. Non mi leggono nemmeno i miei diritti, mi sequestrano il cellulare e non mi fanno effettuare nemmeno una chiamata. Per questa aggressione ho sporto denunce presso la questura di Ferrara e successivamente sono riuscita a denunciare anche il pubblico ministero della procura di Ferrara. A gennaio 2022 mi presento all'udienza con il giudice per le indagini preliminari, il quale doveva decidere se archiviare o no il mio caso. In questa udienza ho detto al giudice che la dottoressa Pizzini mi ha operata senza un consenso e che nella mia cartella clinica risultano dei consensi per interventi in tutto il corpo che non hanno a che fare nulla con il mio intervento estetico al seno. In questa udienza ho detto al giudice che il pubblico ministero incaricato del mio caso non ha predisposto nessun accertamento da mi richiesto. Ho chiesto nuovamente un radiologo per valutare le numerose immagini diagnostiche che documentano gli interventi legali che ho subito in tutto il corpo, ecc. In seguito a quest'udienza il giudice dà altri sei mesi al pubblico ministero per far analizzare la mia documentazione ai consulenti tecnici. Adesso voglio proprio vedere se il mio caso è stato restituito allo stesso pubblico ministero che ho denunciato perché proteggeva i dottori e gli ospedali coinvolti in traffico di organi del quale io sono stata vittima. Vorrei proprio vedere se la mia documentazione sarà nuovamente valutata dai stessi consulenti tecnici che avevo denunciato perché avevano dichiarato il falso in base alla mia documentazione che avevano analizzato, dove hanno nascosto che ho subito interventi illegali, ecc. E hanno dichiarato il falso per proteggere i dottori e gli ospedali coinvolti e per chiudermi il caso. E vorrei proprio sapere se questa volta si esprimeranno sulle cartelle cliniche contraffatte sui falsi consensi per gli interventi illegali in tutto il corpo e se stavolta hanno intenzione di dichiarare il vero oppure continueranno a dichiarare il falso per proteggere i dottori e gli ospedali coinvolti. Vorrei sapere se il pubblico ministero ha intenzione di aggiungere l'articolo per traffico di organi e interventi illegali che ho subito dalla dottoressa Lare Pizzini, oppure lascerà l'articolo per colpa medica. Vorrei proprio vedere se il pubblico ministero provvederà a predisporre gli accertamenti che ho richiesto nelle mie due memorie difensivi e nell'opposizione presentata dal GIP. Se anche questa volta mi negheranno gli accertamenti richiesti e dichiariranno il falso in merito alle cartelle cliniche, pagamenti, provi, ecc., vuol dire che quello che la dottoressa Lare Pizzini mi ha fatto è troppo grave. Vuol dire che i miei organi, parti del corpo, ovociti, gammeti, ecc., sono stati venduti illegalmente e impiantati a persone molto importanti. Per questo motivo c'è tutta questa resistenza nei miei confronti dalla parte della giustizia e da parte delle procure coinvolte. Ho avuto diversi medici legali, diversi avvocati, sono state seguiti persino dal centro tutela dei diritti del malato di Ferrara, ma non hanno voluto andare contro i dottori e gli ospedali coinvolti. Perché? Perché si tratta di traffico di organi e interventi illegali. Con tutte le prove che documentano di aver subito interventi illegali in mio possesso, gli avvocati si rifiutano di intervenire, di difendermi e contribuiscono a farmi chiudere il caso. L'unica cosa che mi resta da fare è raccontare la mia storia e tutto quello che mi succede in diretta, perché ho poca speranza di avere giustizia. In quanto nelle procure coinvolti oppongono resistenza al procedimento penale e faranno di tutto per archiviare il mio caso. Non so quanto tempo passerà prima che accetteranno che ho subito interventi illegali. Potrebbero passare anche degli anni e a quell'ora potrei già essere anche morta. Chiedo aiuto al Presidente Sergio Mattarella, chiedo aiuto al Governo Italiano, al Ministero della Salute e al Ministero della Giustizia, alla Guardia di Finanza, di intervenire e controllare cosa succede nelle procure di Ferrara e di Verona. Chiedo di controllare le mie cartelle cliniche autentiche dell'ospedale di Cuona e di Ferrara e all'ospedale Borgo Trento di Verona, le quali vengono tenute sotto banco e non vogliono darmi una copia. Da due anni che sto male e peggioro di salute, i dottori nascondono che ho subito interventi illegali e mi scrivono un falso reperto. Non mi danno la giusta diagnosi e per questo motivo non posso curarmi. Sono stata usata come pezzi di ricambi umani in due spedali e sono abbandonata a morire. Mi sono stati rubati anche i miei figli. Ho una grave infezione interna e sto marciando dentro. Nelle immagini radiologiche risultano strani oggetti nel mio corpo. Ho dei dubbi che alcuni di essi sono dei sensori artificiali usati in medicina i quali mi sono stati impiantati dai dottori che mi hanno operato per non farmi sentire dolore e per usarmi a scopi scientifici, ecc. Nel prossimo video vi racconterò della cartella clinica contraffatta dell'ospedale di Bruco Trento di Verona e degli altri interventi illegali che ho subito lì. Grazie a tutti e condividete questo video.